Il termine che ti voglio presentare oggi è salse madre. Siamo all'interno del mondo delle basi di cucina e nella sezione dedicata alle salse ed è qui la Francia le fa la padrona. Ma anche il bel paese che le arricchisce grazie ai prodotti del territorio vanta un buon bagaglio culturale. Questo termine identifica quindi le salse basi delle nostre preparazioni che potrebbero essere usufruite o realizzate come accompagnamento o per arricchire altre salse o altre preparazioni. Dobbiamo fare una specificazione in quanto a monte si suddividono le salse fredde o calde e le salse madri sono salse che hanno subito una fase di riscaldamento durante il loro processo. Ma vediamo le 5 salse madri. Al primo posto troviamo la salsa di pomodoro. Seconda possiamo trovare la salsa covellutata comune. Poi troviamo la salsa spagnola chiamata anche fondo bruno legato. Poi tra le salsa troviamo la besciamella e infine la salsa londese. Con questa pillola ti ho voluto far addentrare in questo mondo presentandoti le 5 salse madri fondamentali, importante, sperimentare e gustare per credere.